...da impedire a un motogiorno di sorgere. Il motogiorno per noi sarà l'intero anno 2014 che anche leopardianamente parlando, in dialogo con il venditore di Almanacchi, ci auguriamo a tutti che sia decisamente migliore del 2013. E noi così andiamo avanti e questa sera con i riconoscimenti che vengono dati, vuole essere appunto un incentivo a resistere e a non piegarsi di fronte all'attività. E quindi questa serata è anche un augurio per il nostro futuro. Allora, ottava edizione, riconoscimento a Vincenzo Alliegro, per essere autore di un viaggio lirico che partendo da un'idea sogno arriva alla profondità dell'esistenza. E questo abbiamo riscontrato nell'opera che ha partecipato al premio. Consegna il premio a Vincenzo Alliegro l'assessore di San Pietro Altanaro, Antonio Pagliari.